Musica Musica Dilaga nelle marche la variante inglese del coronavirus e 9 campioni analizzati su 10 su Fano TV parla l'esperto Marco Pompili 19 decessi e boom di contagi in 24 ore più di 800 positivi, ospedali sotto pressione Acquaroli lancia l'appello facciamo attenzione o c'è il rischio di rimanere in zona rossa Super lavoro delle USCA le unità speciali che curano a casa i pazienti positivi al covid in prima linea da circa un anno ricevono dalle 30 alle 40 chiamate ogni giorno Vietato l'ingresso ai politici la protesta e la rabbia di un ristoratore di Re Canati che ha fisso il cartello all'ingresso del suo locale ristori insufficienti e presi in giro anche dal nuovo governo Disposti a tutto pur di non chiudere ecco i commercianti che si reinventano con le videochiamate per far vedere ai clienti gli articoli da acquistare Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia in primo piano i contagi in rialzo nella nostra regione la variante inglese che ormai è presente in quasi tutti i campioni analizzati oggi abbiamo fatto il punto con l'epidemiologo Marco Pompili In Italia il 18 marzo scorso la variante inglese del coronavirus era pari a quasi 9 casi su 10 la stima viene dalla nuova indagine condotta dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute insieme a laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler Secondo lo studio nel nostro paese la prevalenza della variante è dell'86,7% con valori oscillanti tra le singole regioni tra il 63,3% e il 100% preoccupante la situazione anche nelle marche Sulla variante inglese ogni settimana vengono fatte delle campionature a random nell'ultima settimana sono stati prelevati 64 campioni di questi 54 erano positivi alla variante inglese due alla variante di New York e due alla variante brasiliana quindi su 64 casi 58 avevano la presenza di varianti quindi tendenzialmente ormai siamo attorno al 90% di presenza delle varianti sul nostro territorio a livello italiano è l'86 quindi ormai vi è una prevalenza delle varianti all'interno del cepo originario La variante inglese è ben distribuita su tutto il territorio regionale ha proseguito Pompili, direttore dell'osservatorio epidemiologico per far fronte al problema e cercare di frenare i contagi ieri dopo l'indicazione ministeriale partita dalla cabina di regia il servizio sanitario della regione ha emanato una circolare con la quale è stata comunicata la modifica dei metodi di tracciamento dei contatti e di uscita dalla quarantena Si è valutato oramai che vi è una presenza endemica della variante inglese nel nostro territorio quindi è chiaro che i tempi di uscita sono più lunghi non sono più i 10 giorni di prima ma diventano 14 giorni perché? Perché si è scoperto che con la variante inglese i tempi di uscita e di guarigione sono tendenzialmente più lunghi E' più contagiosa? Allora le indicazioni delle sì di sì dicono di sì ed è chiaro che anche noi abbiamo rilevato questo dato quello che è più contagioso è il fatto che vi è un tempo più lungo di contagio essendoci un tempo più lungo di contagio è chiaro che hai una probabilità maggiore di contagiare più persone quindi è chiaro che il tempo di contagio più lungo porta con sé una maggiore incidenza dei casi un maggior ricovero dei casi e anche una mortalità maggiore I sintomi invece sono gli stessi fa sapere l'esperto che ha commentato anche l'andamento della curva epidemiologica visto il boom di contagi oltre 800 registrati nelle ultime 24 ore Noi sul tasso di incidenza rischiamo di essere sopra 250 su 100 mila quindi non è detto alla data di oggi che avremo un inserimento in fascia arancione anzi la probabilità è maggiore per una continuità in fase rossa Ecco continua comunque la pressione sugli ospedali l'indice RT però sembrava comunque calato in questi giorni la scorsa settimana Sì, l'indice RT è passato da 1,19 a 1,15 tieni presente che l'indice RT misura un evento già passato nel tempo Noi oggi abbiamo registrato un aumento di incidenza nell'ultima settimana l'incidenza se noi era calata di circa mille casi sulla settimana prima Oggi un campanello d'allarme però molto forte perché 260 casi con un'incidenza così forte amacerata era molto tempo che non si vedeva Dovremmo quindi domani rimanere sotto i 600-500, c'è un dato? Sì, domani dovremmo avere attorno ai 520, 515, 520 casi altrimenti si rimane appunto in zona rossa anche se i parametri ministeriali RT e incidenza sono in calo Il direttore infine ha parlato di vaccini dall'analisi effettuata è emerso che il 65% degli over 80 nelle Marche è stato vaccinato e dentro la metà di aprile si dovrebbe chiudere la prima somministrazione per l'intera categoria messa in sicurezza questa fascia di età più a rischio ci si aspetta un trend di miglioramento Ci aspettiamo un trend da metà aprile che può essere inizio di flessioni abbastanza rilevante C'è chi dice di una immunità poi per due anni dal momento della vaccinazione della seconda dose quindi di richiamo, vi risulta così? Guarda, come Regione Marche l'IRCA sta effettuando delle analisi molto dettagliate su questo aspetto stiamo valutando adesso i primi dati quindi i primi dati di durata a livello di prevalenza nel territorio regionale e appena abbiamo i dati importanti li comunicheremo assieme all'IRCA Purtroppo oltre ai contagi sono in aumento anche i decessi Nelle Marche nell'ultima giornata sono morte 19 persone con Covid-19 3 erano residenti nella provincia di Pesero Urbino, 2 a Pesero e 1 a Vallefoglia La vittima più giovane invece è un uomo di 59 anni di Arcevia I nuovi contagi sono 807 Le province più colpite sono quelle di Macerata in testa con 260 casi e quella di Ancona con 228 Negli ospedali della Regione ci sono 8 ricoveri meno rispetto a ieri I pazienti in terapia intensiva scendono a 146 mentre quelli in semi-intensiva a 214 E sull'andamento e anzi aumento dei contagi oggi è intervenuto il governatore Francesco Acquaroli dopo alcuni giorni della settimana in cui la curva pandemica sembrava rallentare Il dato di oggi con oltre 800 positivi ci riporta indietro addirittura di due settimane nel mezzo del picco della pandemia Speriamo che sia un dato sporadico ha detto il Presidente perché altrimenti si rischia di compromettere il passaggio della nostra Regione nella fascia meno restrittiva Acquaroli poi si è appellato ai marchigiani come vedete in questo post su Facebook chiedendo di continuare ad avere la massima attenzione imposta dalla pressione sanitaria negli ospedali ma anche dalla necessità di uscire quanto prima da queste restrizioni così pesanti La Regione ha spiegato non ha strumenti di intervento davanti a dati che ci condannano nella cabina di regia È dura e difficile per tutti ha concluso Acquaroli ma cerchiamo di essere scrupolosamente attenti nella nostra quotidianità E nell'ultimo periodo è aumentato anche il numero di pazienti Covid che richiedono le cure a domicilio Infatti sono più di 30 le chiamate che ogni giorno arrivano alle Euskadi fanno le unità speciali di continuità assistenziale Da un anno in prima linea per assistere in casa le persone ammalate di coronavirus aumentano i pazienti e anche le visite Le unità speciali lavorano senza sosta per garantire l'assistenza a domicilio cercando di evitare che i positivi vengano ospedalizzati Le Euskadi Fano composte in totale da 26 medici e 5 infermieri coprono anche altre zone come Mondolfo, San Costanzo, Pergola e San Lorenzo in campo A raccontarci dell'attività è il coordinatore Luca Santilli Luca non avete il timore di operare nelle case di persone contagiate? Più che timore la precauzione di coprirci completamente perché non siamo solo noi a rischio di prendere il Covid ma abbiamo anche il rischio di portare il Covid poi nelle nostre abitazioni quindi dobbiamo essere attenti sia per noi che per i nostri cari Un lavoro dunque che comporta capacità e massima attenzione le squadre che sono formate da 4 medici e 2 infermieri per turno completamente bardati possono gestire anche pazienti con sintomi polmonari più gravi che continuano ad essere monitorati costantemente a casa per non sovraccaricare le strutture ospedaliere Spesso purtroppo capitano anche di dover gestire dei casi critici quando sono veramente critici che ci rendiamo conto che le semplice cure domiciliari non bastano ricorriamo al 118 e quindi poi all'ospedalizzazione purtroppo i reparti sono sempre più pieni quindi a volte vengono rinviati a domicilio con ossigenoterapia e quindi dopo dobbiamo seguire noi con uno stretto monitoraggio e le rivalutazioni sempre più seriate Vi occupate anche delle vaccinazioni? Al momento le USCA non si occupano delle vaccinazioni noi ci occupiamo solo dei tamponi quindi di trovare i positivi e poi di seguirli nella cura del Covid E a causa dell'aumento dei contagi, prosegue Santilli ogni giorno arrivano 30-40 richieste per tamponi e visite Abbiamo sempre ricevuto dei grandi aiuti dalla regione, dall'Asur e dalla comunità comunque attraverso raccolte fonde, donazioni abbiamo avuto un grande aiuto anche in termini di strumentazione quindi con gli ecografi, i saturimetri, i saturimetri da lasciare ai pazienti a casa quindi abbiamo avuto un grande aiuto Il personale è sufficiente al momento? Al momento il personale sì, riusciamo comunque a coprire tutti i giorni, a coprire tutto il territorio e a coprire le richieste che riceviamo E la regione ha potenziato tutti i canali di comunicazione per le informazioni sul piano vaccini Oltre alla nuova pagina web sul sito istituzionale è stato rafforzato il numero verde 800-9366-77 sull'emergenza Covid-19 che i cittadini possono contattare per essere informati Le postazioni attive sono già state raddoppiate da 7 a 14 e saranno ulteriormente incrementate Da domani, giovedì 1 aprile, saranno ben 20 con orario 8.20 Inoltre è stato attivato un call center dedicato alle comunicazioni veloci in grado di effettuare fino a 3.000 telefonate al giorno che gli operatori utilizzeranno ad esempio per informare sulle nuove date di vaccinazione oppure su eventuali imprevisti e per fornire in tempi rapidi le diverse tipologie di informazioni personalizzate E' bene sottolineare che il numero verde regionale per le informazioni Covid è diverso dal numero verde per effettuare le prenotazioni per le vaccinazioni che invece è l'800-00-9966 E adesso vi raccontiamo della protesta di un ristoratore di Re Canati che all'ingresso del suo locale ha fisso un cartello con su scritto vietato l'ingresso ai politici, sentite Veramente siamo in difficoltà perché non è stata una questione di un mese, due mesi Qui è un anno che noi siamo soli Fino a ora l'abbiamo fatto con le nostre forze ma sono finite ormai Ristori come briciole, bollette da pagare e la chiusura che mette in ginocchio l'intera categoria Dopo la protesta del barista di Ancona salito sul tettuccio dell'auto per sfogare la rabbia contro le istituzioni continua la disperazione e la richiesta di aiuto da parte di imprenditori di tutta Italia A Re Canati, Mirko Malatini, da alcuni giorni ha fisso sulla porta del suo ristorante Poesia a tavola un cartello di divieto d'ingresso per i politici Il motivo ha detto è solo uno, siamo abbandonati dallo Stato Ci stiamo attaccando dappertutto per poter lavorare, per poter uscire fuori ma mi sembra che allo Stato non gli importa niente di noi Non è che volevo fare di un erbo un fascio però è chiaro che la mia forma è più rivolta Al governo centrale in questo caso Diciamo grandi, tra virgolette di nuovo E con il nuovo governo ha proseguito il ristoratore non è cambiato nulla, anzi è stata una presa in giro Invece i sindaci e i presidenti delle regioni hanno le mani legate ma una risposta, detto Mirko, deve arrivarci anche da loro con aiuti morali ed economici Il suo ristorante ha conduzione familiare oppure ha anche dei dipendenti? Noi diciamo che la nostra gestione è quasi tutta a livello familiare siamo io, mia moglie con i figli e qui ci sono altri due dipendenti Quindi tutti a casa è un problema di conseguenza anche economico all'interno della famiglia Tutti a casa e fino ad ora siamo riusciti ad andare avanti con quei soldi messi da parte, con i sacrifici fatti in questi anni però ora basta, ci vuole veramente che ci fanno riaprire e ci fanno riaprire con dei ristori che sono giusti è chiaro che non è che chiediamo chissà cosa però bisogna che ci siano delle cose concrete perché fino ad ora è arrivato quasi zero Noi nel 2020 abbiamo preso solo 5.000 euro quindi questa è la nostra situazione e come me penso ce ne siano altri e forse anche peggio Cambiamo argomento La Visfano lancia la donazione in blu grazie alla collaborazione con la direzione ospedali riuniti in Marche Nord e alla disponibilità del primario Valerio Beatrici tutti i donatori che effettueranno la donazione di sangue e plasma nel mese di aprile potranno usufruire della visita urologica gratuita negli ambulatori di Fano e Pesaro questa ha dichiarato il primario un'occasione per fare cultura e prevenzione del tumore alla prostata la guarigione sfiora al 100% se la diagnosi è precoce e sono già numerose le adozioni ogni settimana sono in programma 16 visite gratuite la segreteria di Avisfano fisserà l'appuntamento entro al massimo 5 mesi dalla donazione Una videochiamata per mostrare i prodotti e venderli ai clienti è l'idea di alcuni commercianti che anche in zona rossa sfruttano la tecnologia per far fronte alla crisi economica Angelica Panzieri Pesaro resta ancora in zona rossa così alcuni commercianti d'abbigliamento si sono dovuti reinventare restano comunque aperti ma hanno cambiato il loro modo di lavorare disposti a tutto pur di non chiudere ecco il nuovo modo di lavorare in zona rossa qualche commerciante d'abbigliamento del centro storico di Pesaro si è già attrezzato presenza fisica all'interno del negozio ma senza far entrare nessuno ovviamente il decreto lo vieta in mano però il telefono sempre a disposizione per videochiamare i clienti direttamente dal negozio e mostrare loro i prodotti per poi eventualmente spedirli a domicilio un tour virtuale oltre che un nuovo modo di comunicare che in tempi di covid può aiutare molto nelle vendite siamo presenti nei negozi dalle 10 alle 12 della mattina e dalle 16 alle 18 nel pomeriggio proprio perché se qualche cliente è stata pubblicizzata questa cosa anche sui social o ai nostri clienti tramite whatsapp diamo la possibilità di fare una chiamata, una video call diciamo che con il telefono facciamo vedere comunque il nostro prodotto se loro hanno interesse tramite le foto che vedono sui social come già successo poi eventualmente gliela consegno a domicilio la speranza per i commercianti è ovviamente quella di riaprire subito dopo Pasqua intanto tra la promozione sui social e le consegne a domicilio ognuno cerca di arrangiarsi come può stiamo lavoricchiando con i pochi passanti con il telefono e con facebook e instagram comunque abbiamo la possibilità di consegnare anche gli articoli non vendibili al pubblico cerchiamo di resistere ancora bisogna un pochettino reinventarsi per non morire prima dei altri insomma la speranza adesso è quella di riaprire dopo Pasqua noi speriamo di essere in zona arancione assolutamente in modo di avere tutto aperto senza contingentare gli articoli non vendibili sperare nel passaggio di più persone della scuola che riapre, i genitori che non stanno a casa con i bambini possono di nuovo venire in centro sperando di continuare a lavorare e si sono conclusi gli interventi che è nel Green Power in coordinamento con l'assessorato all'ecologia urbana del comune di Fano da lunedì avviato lungo il tratto del canale Albani che costeggia via le Kennedy sono stati rimossi gli alberi caduti in acqua tagliate tutte le piante secche e pericolanti tagliato il canneto e completata la pulizia dell'argine ricompreso tra il ponte storto e il ponte pedonale in aggiunta oggi sono terminati anche gli interventi di rinforzo degli argini ed è stata sostituita la rete protettiva lungo tutto il tratto interessato dai lavori di manutenzione straordinaria e sempre a Fano continua la sistemazione del manto stradale adiacente alle isole ecologiche l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori fa sapere che gli ultimi interventi sono stati eseguiti a Carrara lungo la Flaminia, poi in Viale Romagna a Madonna Ponte lungo la strada in cui si trova il canile e in via Carlo Levi a Torrette è partito invece dal porto di Ancona il convoglio di 86 metri di lunghezza che trasporta il compensatore sincrono di Terna la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale fino alla stazione elettrica di Fano il macchinario di circa 250 tonnellate di peso è uno degli strumenti utilizzati dall'azienda per gestire in sicurezza la rete elettrica che ha il compito di regolare la tensione e ridurre al minimo gli sbalzi di tensione dovuti all'intermittenza della produzione di fonti eoliche e fotovoltaiche stabilizzando così la rete e aumentando nell'efficienza viste le grandi dimensioni del convoglio Terna ha messo in campo logicamente eccezionali accorgimenti per evitare disagio ai cittadini e alla circolazione stradale e adesso vi mostriamo una foto che oggi lo vedete alle mie spalle Gianni Morandi ha pubblicato sul suo profilo Facebook come sapete il noto cantante ricoverato al centro grandi ustionati dell'ospedale Bufalini di Cesena per un incidente di cui era rimasto vittima mentre bruciava delle sterpaglie ecco gli speciali auguri di pronta guarigione da parte di Samantha Bartolucci bravissima caricaturista di Fano è il commento che Morandi ha scritto postando questa fotografia che lo ritrae mentre tiene in mano l'opera realizzata e donata dall'artista fanese e adesso passiamo agli appuntamenti della settimana santa che Fano TV trasmetterà in diretta dal Duomo di Fano tramite l'ufficio comunicazioni sociali della diocesi le celebrazioni presedute dal vescovo Armando Trasarti partiranno domani alle ore 18 con la messa nella cena del Signore venerdì sempre alle 18 in programma la celebrazione della passione del Signore sabato 3 aprile alle 19 ci sarà invece la veglia pasquale nella notte santa mentre domenica alle ore 11 la risurrezione del Signore domani sera invece alle 20.30 trasmetteremo una diretta in diretta una preghiera per l'Italia dalla Basilica Romana dei 12 Apostoli si terrà una santa adorazione eucaristica tra poco invece una nuova puntata di Esplorare i confini a cura del Circolo Bianchini di Fano dal titolo La proposta di pace dei profughi siriani con Andrea Angeluzzi grazie per la vostra attenzione l'informazione torna domani mattina in diretta alle 7 con il commento alla stampa arrivederci